Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento della Storia Porti Chiuse, secondo appuntamento del 2022, quindi ben ritrovati, buon anno a tutti e speriamo di avervi, così come è stato già in occasione del primo episodio con l'odonomastica bolognese, ormai un appuntamento tradizionale, quello con Carlo Pelagalli, speriamo davvero di avervi sempre numerosi e attenti come sempre anche in questa nuova edizione del 2022. Il tema di questa sera è un tema un po' particolare che non nascondo essere nato dalle suggestioni di un romanzo di qualche anno fa, Proletcult, del collettivo Vuming, non si vede molto bene causa luce ma dopo ci sarà occasione di ritornarci e le suggestioni, come dicevo, che provengono da questo romanzo fanno luce, diciamo, gettano l'amo più che altro verso un episodio abbastanza misconosciuto ma molto interessante non solo per la storia della nostra città, per la storia di quello che è stata anche l'incontro all'interno del socialismo bolognese, del mondo operaio, in questo caso ancora riformista bolognese, con l'internazionalità, i compagni della socialdemocrazia russa, ma nella stessa storia dello sviluppo del partito operaio socialdemocratico russo verso quella che sarebbe poi stata, diciamo, la strada che avrebbe condotto alla rivoluzione d'ottobre e alla trionfo della linea bolshevica di Lenin all'interno del partito è sicuramente un episodio molto importante all'interno della storia, in qualche modo, eroica della socialdemocrazia russa fra le due rivoluzioni del primo ventennio del Novecento, ovvero quella del 1905 e quella del 1917. Prima di arrivare nel cuore dell'episodio che riguarda anche la nostra città è bene contestualizzare quello che è sicuramente un argomento non semplice, quale quello della storia della socialdemocrazia russa. Già in questo momento siamo alla fine del primo decennio del Novecento, frazionata fra la corrente menshevica guidata dal padre del marxismo russo Georgi Plekanov e la corrente bolshevica che fa capo a Vladimir Ilic Lenin. All'interno di questo panorama naturalmente ci sono tutta una serie di personalità, tutta una serie di sfaccettature che incontreremo anche nella nostra chiacchierata di questa sera. Ma è bene partire, diciamo così, dall'inizio, è bene dire come l'Italia sin dal Settecento quantomeno fosse stata un faro, un vero e proprio faro per il mondo artistico intellettuale russo e non solo, una meta dei Grand Tour e delle vacanze della gran parte dell'aristocrazia proveniente dall'impero zarista. Ricordiamo giusto a titolo aneddotico che fu proprio uno scrittore russo, Alexander Turgenev, omonimo dell'altro grande scrittore, nel 1835 a definire la nostra certosa un vero e proprio museo a cielo aperto. Ovviamente agli occhi degli osservatori russi, incantati dall'arte e dal paesaggio dell'Italia, l'epopea risorgimentale che si dispiega a partire dal biennio quarantottesco, che spoccia poi nella Repubblica Romana del 49, fino ad arrivare poi all'epopea garibaldina, nella spedizione dei mille e quelle successive, colorano l'immagine dell'Italia con queste nuove passioni politiche, queste nuove passioni sociali. Nacque anche da qui l'amicizia fra due grandi personaggi italiani e russi, Giuseppe Garibaldi e il grande rivoluzionario Alexander Erzen, che gli dedicherà anche un opuscolo molto famoso, la camicia rossa, in occasione del viaggio di Garibaldi a Londra nel 1864. La nostra stessa città, poi, come è stato anche detto più volte su questo stesso canale, ha fatto da sfondo all'opera anarchica e insurrezionale di Mikhail Bakunin. La nostra città, e in particolare la cittadina di Imola, ha visto vivere Anna Kulishov, la grande leader riformista del Partito Socialista Italiano, accompagnata a quel tempo, siamo negli anni Ottanta dell'Ottocento, ad Andrea Costa, i quali daranno anche alla luce una figlia Andreina. Come è stato detto, come è stato scritto più che altro da Renato Risaliti, i democratici russi erano attratti da Bologna non solo dalle sue bellezze naturali, storiche e artistiche, ma anche e soprattutto dalla forza del nascente movimento operaio e contadino. Dall'esempio, insomma, che la cooperazione dava ai russi per risolvere impellenti problemi economici e sociali. Quindi anche un importante punto di osservazione, quello bolognese. Bologna come altre città, in realtà anche più di Bologna, pensiamo a Milano, pensiamo a tante città della Rivera Ligure come Nervi, pensiamo a Napoli, diventano dopo il fallimento della rivoluzione russa del 1905, in particolare con la cosiddetta reazione di Stolipin dal 1907 in poi. Tutte queste località diventano meta, ancora più che in passato, dell'emigrazione politica russa. Comunità russe che si vanno quindi ingrossandosi ed in particolare a Capri, Proprio tra il 1907 e il 1913 si insedierà nella cosiddetta Villa Spinola il grande scrittore russo Maxine Gorky, autore fra gli altri del romanzo La Madre. È una presenza che accende i riflettori anche da parte dell'opinione pubblica italiana su quello che era la situazione russa, un interesse che è politico, che è culturale, che è sociale, ma che diventa anche solidarietà nel momento in cui cominciano anche ad organizzarsi petizioni, cominciano anche ad organizzarsi, diciamo così, raccolte fondi proprio per agevolare la vita di chi è dovuto scappare dalla reazione dell'impero zarista e dai tentacoli della polizia politica segreta locrana che ritornerà anche nella nostra storia di questa sera. Arriveranno poi personaggi come per l'appunto Plekanov, l'anarchico geografo filosofo Petr Kropotkin, solo per citare i più noti. E come capiterà poi anche al foruscitismo italiano degli anni 20 e 30, l'esulato politico, l'emigrazione politica porta non solo la proiezione di comunità, la proiezione di la fuga di individualità da quella che sono delle reazioni generali e in qualche caso anche particolari contro singole persone. Porta anche a, per l'appunto, persone che hanno fatto, hanno preso parte, alle rivoluzioni che hanno preso parte, alla vita politica legale e illegale nella Russia rivoluzionaria, anche a tutta quella frantumazione, a tutta quella un contesto politico che li accompagnava ma che li metteva in competizione in patria. E in particolare questo è il caso del partito operaio socialdemocratico russo che agisce ancora nell'illegalità fino a che poi diciamo non ci sarà la possibilità dopo lo scioglimento della seconda Duma di concorrere alle elezioni per la terza Duma. È un partito che porta nell'emigrazione politica russa tutte le sue frizioni, tutte le sue correnti che in questo momento, 1909, 1910, 1911, sono incarnate soprattutto da due personaggi che diciamo si sarebbero contesi il verbo bolshevico e diciamo la direzione di questa corrente che poi alla vigilia della rivoluzione d'ottobre avrebbe poi preso il sopravvento all'interno del partito operaio socialdemocratico russo, ovvero Lenin e lo scrittore medico e poi teorico Alexander Malinowski, meglio noto come Bogdanov. Il dissidio in particolare nel 1907-1908, in particolare sulla situazione politica che si era venuta a creare in Russia, sulla tattica da sposare in occasione delle elezioni parlamentari. Bogdanov infatti, al contrario di Lenin, che in questo caso vede la Duma come una possibile tribuna di propaganda per quanto riguarda le teorie socialdemocratiche, Bogdanov invece assume una posizione molto più intransigente, vede solamente nell'opera illegale del partito per la formazione di una nuova classe dirigente all'interno della stessa classe proletaria russa, un punto fondamentale per poi passare subito all'azione e all'insurrezione armata. Quindi diciamo che a grandissime linee si può riassumere in queste poche parole il dissidio che poi caratterizzerà anche le frizioni attorno alle due scuole di Capri e quella di Bologna. Un dibattito che soprattutto da parte di Bogdanov poi assumerà anche carattere filosofico e per l'appunto di organizzazione del partito. E da queste teorie poi nascerà questo gruppo editoriale, questa organizzazione letteraria denominata PERED, ovvero Avanti, attorno, scusate, assommando al suo interno tutta una serie di personalità che fanno di una lettura di non ortodossa e si può dire anche anti-autoritaria del marxismo la loro caratteristica politica principale. Si può anche dire che all'interno del gruppo PERED, che di fatto mette anche in imbarazzo Lenin, nel gruppo PERED fra il 1909 e il 1910 si assommano, si assomma il più cospicuo potenziale intellettuale che all'epoca poteva esprimere il bolshevismo. Abbiamo detto di Maxim Lorch, abbiamo detto di Alexander Bogdanov che è considerato anche da una rinnovata storiografia degli ultimi 10-15 anni, uno dei personaggi più influenti a quell'epoca del bolshevismo russo, ma abbiamo anche Anatoly Lunakarsky, Martin Liadov, Stanislav Volsky e il deputato della seconda Duma Grigori Aleksinsky. Come detto per Bogdanov adesso il punto cardine verso una nuova insurrezione, verso una nuova rivoluzione armata e l'educazione delle vaste masse operai a una coscienza di classe socialista mediante scritti propagandistici per l'appunto scuole di partito, affinché gli operai possano creare una nuova intelligenza che guidi una rinnovata lotta di classe. La sua idea che poi porterà anche nell'esperienza dei proletcult, quindi delle organizzazioni per la cultura proletaria, sarà per l'appunto l'idea di dotare della classe proletaria di una nuova coscienza rivoluzionaria, partendo tra l'altro da quella che lui considera la vera avanguardia del proletariato, ovvero gli operai professionali delle fabbriche, dei bacini industriali. È da qui che nasce quindi l'esperienza della scuola di Capri nell'estate autunno del 1909, proprio in quella villa Spinola in cui si era rifugiato Maxine Gorky dopo l'esilio dalla Russia per favorire il rinnovamento del partito e della sua classe dirigente. Quindi se per Lenin questa era solamente un'occasione di un ulteriore frazionismo all'interno del partito, la scuola prese avvio con 13 studenti operai provenienti dalla Russia e delegati dalle organizzazioni locali proprio per partecipare, proprio per educarsi e ritornare in Russia per avviare o meglio ravvivare la lotta clandestina contro la reazione di Stolipin, in realtà il tentativo di coinvolgere anche tutti i più importanti nomi della socialdemocrazia russa, ma anche della socialdemocrazia europea, pensiamo a Rosa Luxemburg, pensiamo allo stesso Plekano, pensiamo a Lev Trotsky, rifiuteranno proprio per non immischiarsi in quella che è considerata una patata bollente, ma anche una questione interna, non tanto al partito socialdemocratico, ma quanto all'interno di una sua frazione. Gli stessi studenti di Capri inviteranno Lenin a tenere delle lezioni sull'isola, ma lui rifiuterà l'invito e anzi li inviterà a Parigi dove abitava a quel tempo per istruirsi a quella che secondo lui era la vera scienza socialdemocratica del tempo e non quella che lui aveva avuto a definire una caricatura del rivoluzionarismo, una caricatura del marxismo. Ed è quindi sulla falsariga di quello che è stata l'esperienza Caprese che nasce l'intenzione già alla fine del 1909 di istituire una nuova scuola di agitazione e propaganda del partito socialdemocratico russo in una nuova località, avendo tra l'altro l'inverno del 1909-1910 portato ad un raffreddamento dei rapporti tra Bogdanov, il gruppo Pered e lo stesso Gorky. Il comitato del partito si era mosso valutando positivamente l'esperienza, non tanto l'esperienza che ha preso insieme, ma quanto l'intenzione di formare dei nuovi quadri del partito. Il comitato centrale del partito socialdemocratico russo tentò di addivenire ad una soluzione unitaria appunto per la formazione di quadri di tutto il partito, ma alla fine il gruppo Pered decise di intraprendere di nuovo una strada solitare, quindi di istituire a Bologna una seconda scuola superiore di agitazione e propaganda. Opposta a quella che poi sarà considerata la controscuola di Long Jumot, ovvero questo soborgo parigino in cui aveva preso la residenza Lenin. La scelta di Bologna nel momento in cui lo stesso Bogdanov si stava guardando intorno e stava probabilmente pensando a una città come Torino o Milano, comunque nell'Italia settentrionale, per sfuggire alla sorveglianza poliziesca. Sono gli anni tra l'altro delle famose espropriazioni bolsheviche. La scuola di Bologna sarà finanziata con i proventi di una rapina ad un vagone postale presso la stazione di Mias, una città situata negli Urali centrali, che nell'agosto del 1909 fruttò oltre 60.000 rubli e 24 kg d'oro, ma anche la morte di 7 persone. Come detto, la scelta di tenere una scuola a Bologna fu probabilmente figlia anche dell'incontro di alcuni delegati russi al Congresso internazionale delle Università Popolari di Bruxelles del 1910, con l'allora presidente della Confederazione Internazionale delle Università Popolari, nonché preside dell'Università Popolare Giuseppe Garibaldi di Bologna, nata già dal 1901 come figliazione della Società Operaia di Via Cavaliera, per l'incontro di questi delegati russi con Francesco Lorenzo Pullè, preside dell'Università Garibaldi, professore all'Università di Bologna di Filologia Indoeuropea e Lingua Sanscrita e consigliere comunale, allora di minoranza, del Partito Socialista. Quella che quindi venne a crearsi a Bologna tra il novembre del 1910 e il marzo del 1911 fu una scuola che vide la partecipazione di 21 studenti, di 21 allievi operai, uditori a pieno diritto perché aventi il mandato ufficiale delle organizzazioni locali, provenienti in particolare dalla zona degli Urali, da San Pietroburgo e da Mosca, e da nove uditori liberi. Lo schema dei corsi rispecchiava sostanzialmente quello che era già stato, lo schema delle elezioni di Capri, possiamo leggerli velocemente, abbiamo Bogdanov, docente di economia politica, storia delle concezioni sociali del mondo, Anatoly Lunakarsky, storico dell'arte, critico letterario che insegnava la storia del movimento operario e del socialismo in occidente, nonché la storia della letteratura russa, prendendo in questo caso il testimone da Gorky, lo storico Martin Liadov, storia del movimento operario e del socialismo in Russia, altri due storici, Ceraskov e Mikhail Pokrovsky, che parlano della storia della Russia moderna, l'ex deputato alla seconda Duma, Gregorio Aleksinsky, che parla dei partiti politici in Russia, Mikhail Vertman, che tratta di politica internazionale, e poi ancora la questione agraria, fondamenti di diritto pubblico, propaganda e agitazione. È interessante notare come, a differenza di quello che si era potuto fare a Capri, in realtà il corpo docente a Bologna vede sia appartenenti al gruppo Pered che Menshevichi e anche fra coloro che tengono lezioni al di fuori del programma ufficiale dei corsi, ci sono personaggi di diverse tendenze, in particolare Lev Trotsky che insegna un corso, tiene un corso pratico di giornalismo e tiene anche nel febbraio del 1911 una commemorazione dopo la morte nel novembre dell'anno precedente di Leone Tolstoi e Alexandra Kollontai, una personalità molto importante sia nel movimento socialdemocratico russo, lei che ha posizioni mensheviche, ma anche nel movimento femminista internazionale. Sarà tra l'altro dopo la rivoluzione d'ottobre la prima donna a ricoprire un incarico ministeriale come commissario del popolo all'assistenza sociale. Senza dilungarci troppo, visto che siamo finalmente arrivati al cuore della nostra diretta di questa sera, leggo un piccolo estratto da Proletkult di Wuming, solo per darmi idea di quello che poteva essere questa scuola che tra l'altro era considerata, quantomeno dalla pubblicistica dell'Università Popolare Giuseppe Garibaldi, una propria costola, avendo tra l'altro le lezioni sede, quantomeno in principio, nella sede di Via Cavaliera della società operaia che ospitava appunto l'Università Popolare Giuseppe Garibaldi. è un estratto dalla metà del libro, non ci sono spoiler, ma mi piaceva condividerlo con voi. A Bologna il palazzo che ospitava la scuola era la sede della società operaia di mutuo soccorso, in Via Cavaliera. Niente a che vedere con il castello di Morzovo o i soffitti affrescati in Villa Spinola. In compenso a Bologna c'erano due belle tipografie legate al partito socialista che governava la città. Grazie a quelle si tenne il laboratorio pratico di stampa diretto da Vyacheslav Menzischi, il lavoratore più infaticabile che avesse mai conosciuto. Dormiva quattro ore per notte, fumava 75 sigarette al giorno e sapeva leggere 16 lingue. Scriveva poesie, traduceva dal persiano i versi di Umar Kayam, ma era laureato in giurisprudenza e gli studenti della seconda scuola di propaganda e agitazione insegnava i fondamenti del diritto pubblico. Tra inchiostre rotative si fece aiutare da Trotsky, arrivato a Bologna con una valigetta di caratteri cirillici. È strano ricordarli assieme a comporre i fogli di uno stesso giornale. Vent'anni dopo, uno è diventato il grande oppositore, mentre l'altro, costretto dall'angina su un divano della Lubianca, gli mette alle calcagne della polizia segreta. È interessante anche vedere come effettivamente lo sviluppo del movimento socialdemocratico, poi il movimento bolshevico e sovietico russo, porterà alla divaricazione delle strade di molti di quelli che avevano partecipato alle due scuole di Capri e di Bologna. I corsi, come detto, si tennero dal novembre del 1910 al marzo del 1911 ed è proprio in questa occasione che la scuola e i suoi studenti, arrivando a proporre in occasione di una manifestazione musicale dell'Università Popolare Garibaldi presso la Sala del Liceo Musicale Martini, i canti dei popoli, un intermezzo di canti russi. È stato pubblicato ed è disponibile tra l'altro in archiginnasio, questo Puscolo, che vi faccio vedere in fotocopia, che tra l'altro riporta i testi di questi tre canti russi, si dice cantati dal coro di giovani russi della scuola Maxim Gorki, diretti dal figlio del preside dell'Università Popolare, Giorgio Pullè. Canti che vanno da in mezzo a una vallata, a questo coro di esuli russi, al canto dei deportati alle rive del Baikal, fino a Madre Volga, canzoni dei banditi del secolo XVII composte durante il regno di Alessio Mikhailovich. La fine delle elezioni nel marzo del 1911 riporterà a galla quelle che erano le tensioni con il centro del partito e senza entrare in dettagli che per chi vorrà potranno essere snoczolati in una scheda che provvederemo a pubblicare a giorni sul sito del Museo Storie Memorie di Bologna. Gli studenti si trasferiranno in massa con parte del corpo docente a Long Jumont per seguire i corsi della scuola leninista, ma diciamo le frizioni, gli attriti fra i due gruppi, quello periodista e quello leninista porterà alla partenza anticipata del gruppo degli ex studenti della scuola di Bologna per la Russia dove tra l'altro molti verranno arrestati perché tra l'altro dall'autunno del 1910 l'Ocrana riceveva rapporti segreti sull'andamento della scuola. Lo stesso gruppo periodista con le uscite di Bogdanov, con la fuoriuscita di Lunakarski e altri perdissidi personali più che politici o filosofici si sfalderà già nella prima metà del 1911 e quindi si può dire che di fatto negli anni successivi Lenin potrà tornare ad avere una maggiore presa più che altro per esaurimento della concorrenza all'interno sia del centro bolshevico che all'interno dello stesso partito socialdemocratico russo. Andiamo a chiudere evidenziando molto velocemente quali sono le eredità di questa esperienza. Innanzitutto richiedute teoriche attraverso la pubblicazione di Opuscoli che nascono dalle elezioni di Capri e di Bologna che cominciano a teorizzare alcuni concetti che ritorneranno nella filosofia di Bogdanov come quello della cultura proletaria per lo sviluppo di una nuova egemonia proletaria contro il dominio culturale borghese e quindi lo sviluppo di una nuova coscienza di classe eminentemente socialista per favorire l'istituzione del collettivismo che per Bogdanov è sinonimo di socialismo e di comunismo che di fatto è per lui l'ideologia della società futura. Tutte parole d'ordine che poi torneranno dopo la rivoluzione d'ottobre nel Proletcut, nell'esperienza delle organizzazioni di cultura proletaria che avranno il loro apogeo tra il 1917 e il 1920 arrivando ad avere quasi mezzo milione di iscritti ma poi venendo dopo il 1921 soggettate al Narcompros, il commissariato del popolo per l'istruzione tra l'altro aretto da un ex periodista come Anatoly Lunakarsky ma soprattutto in Italia abbiamo una ripresa di queste teorie bogdanoviane proletcultiste in una città in cui si era già guardato con molto interesse all'esperienza sovietica ovvero Torino, parliamo ovviamente di Antonio Gramsci del Cenacolo di Ordine Nuovo, da dove di fatto nasce l'esperienza proletcultista italiana, un'esperienza molto breve che dura due anni dal gennaio 1921 formalmente al settembre del 1922 ma siamo già nel biennio nero andiamo già purtroppo ad ampie falcate verso la marcia su Roma e verso il fascismo ma l'istituto di cultura proletaria di Torino che si definisce esso stesso sezione del Proletcut internazionale di Mosca cerca attraverso conferenze, attraverso scuole sindacali, attraverso visite ai musei di mettere in pratica le stesse teorie che stavano, che erano fino a qualche tempo prima venivano messe in pratica nella stessa Russia sovietica all'interno dell'esperienza del Proletcut Bogdanov. Quindi spero diciamo che di aver in qualche modo delineato un'esperienza che è comunque molto interessante, un'esperienza molto particolare ma che si inserisce in una storia ben precisa che è quella dello sviluppo della socialdemocrazia russa dagli anni dell'illegalità, dalla prima rivoluzione del 1905 andando verso la rivoluzione di febbraio e poi dell'ottobre del 1917 che però ha una tappa e un momento importante anche nella nostra Bologna. Io vi ringrazio, vi ricordo l'appuntamento della prossima settimana sempre per il ciclo della storia a porte chiuse con la storica musicologa Maria Chiara Mazzi che sempre alle 8, sempre martedì parlerà della divulgazione delle melodie e il ruolo delle bande musicali nel lungo ottocento e vi rimando al testo della scheda che verrà pubblicata in questi giorni che avremo cura di pubblicizzare anche sul gruppo Storie Memorie di Bologna per chi poi volesse approfondire questo argomento. Io vi ringrazio per l'attenzione e per la pazienza e arrivederci su questi schermi.